viterbo una città che respira storia e tradizione una città intrisa di storia viva di tradizione ogni angolo racconta una storia ogni pietra ha visto secoli di vita ogni anno il 3 settembre viterbo si infiamma pulsa di un'energia vibrante le strade si riempiono di persone di luci di suoni questa è la festa di santa rosa una celebrazione di fede forza e comunità un evento che unisce tutti dai più giovani ai più anziani è un tributo alla santa patrona della città santa rosa una figura amata e venerata da tutti i cittadini per generazioni questa festa ha unito il popolo di viterbo le famiglie si riuniscono gli amici si ritrovano tutti partecipano con entusiasmo è uno spettacolo di devozione una testimonianza del loro patrimonio condiviso un momento in cui la città si mostra al mondo in tutta la sua bellezza il cuore di questa festa è il macchina di santa rosa una struttura imponente che incanta e affascina immaginate una struttura imponente illuminata contro il cielo notturno una visione che lascia senza fiato questa è la macchina di santa rosa una magnifica torre di luce alta maestosa un simbolo di speranza e fede cento uomini i coraggiosi facchini la portano sulle loro spalle un'impresa di forza e coraggio attraversano le vie strette ogni loro passo è una testimonianza della loro forza e dedizione un viaggio che richiede non solo forza fisica ma anche una grande fede e mentre la macchina avanza la folla applaude i fuochi d'artificio illuminano il cielo e viterbo celebra la sua amata santa rosa santa rosa una giovane donna di incrollabile fede è la luce guida di viterbo la sua storia è un faro di speranza e determinazione per tutti coloro che cercano ispirazione nata nel tredicesimo secolo dedicò la sua vita ad aiutare i malati e i poveri la sua compassione non conosceva limiti e il suo impegno per il benessere degli altri era ineguagliabile il suo coraggio di fronte alle avversità risuonò in tutta viterbo nonostante le difficoltà santa rosa rimase ferma nelle sue convinzioni diventando un simbolo di forza e perseveranza denunciò senza paura l'ingiustizia ispirando la sua comunità con la sua incrollabile fede le sue parole e azioni hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori di molti anche nella morte la presenza di santa rosa si fa sentire profondamente la sua tomba è diventata un luogo di pellegrinaggio dove i fedeli si riuniscono per pregare e cercare conforto il suo spirito di compassione e resilienza sopravvive attraverso i secoli ogni anno la città di viterbo celebra la sua memoria con una festa che unisce generazioni l'eredità di santa rosa non è solo un ricordo è una forza vivente che continua a ispirare e guidare le persone è una testimonianza vivente del potere della fede e dell'importanza di difendere ciò che è giusto la sua vita ci insegna che anche nei momenti più bui la fede e il coraggio possono illuminare il nostro cammino la festa di santa rosa è un tributo al suo spirito incrollabile un monito che anche una sola persona può fare la differenza la macchina di santa rosa portata in processione è un simbolo di devozione e unità ricordandoci che il coraggio e la fede di una persona possono ispirare un'intera comunità la macchina di santa rosa è molto più di una semplice struttura è un monumento che racconta una storia di fede tradizione e comunità è un simbolo di fede che prende vita ogni anno unendo le persone in un momento di devozione e celebrazione immaginate una torre che si erge verso il cielo alta quasi 30 metri una struttura imponente che sembra toccare le stelle adornata da migliaia di luci scintillanti illumina il cielo notturno con una bellezza mozzafiato creando un'atmosfera magica e incantata ogni anno viene scelto un nuovo design frutto di un concorso che coinvolge artisti e designer di talento ognuno è unico una testimonianza della creatività e dell'abilità artistica del popolo di viterbo ogni design racconta una storia diversa un'interpretazione personale della devozione a santa rosa la macchina è un'opera d'amore realizzata meticolosamente nel corso di mesi ogni fase della costruzione è seguita con cura ed edizione artisti saldatori ed elettricisti mettono il cuore nella sua creazione ogni componente è assemblato con precisione ogni luce è posizionata con attenzione ogni dettaglio ogni luce parla della loro devozione a santa rosa e dell'orgoglio per la loro città è un lavoro di squadra che unisce la comunità in un progetto comune mentre la macchina compie il suo viaggio per le strade diventa un faro di speranza un simbolo dello spirito indomito di viterbo la folla si raduna applaudendo e pregando mentre la macchina passa portando con sé un messaggio di unità e fede cento uomini i vengono scelti per un compito sacro sono loro che porteranno la macchina di santa rosa è una prova di forza resistenza e fede incrollabile per questi uomini è un onore un privilegio tramandato di generazione in generazione il peso della macchina è immenso il suo viaggio una vera e propria prova dello spirito umano mesi di preparazione per questa unica notte i facchini si allenano duramente il loro corpo e la loro mente sono spinti al limite i loro movimenti sono sincronizzati la loro concentrazione assoluta sono una squadra uniti dalla loro devozione a santa rosa e dall'amore per la loro città sollevando la macchina portano sulle spalle le speranze e le preghiere di un'intera comunità sezione 5 l'abbraccio di una città il viaggio della macchina al calar del sole l'attesa si diffonde nell'aria il sta per iniziare la macchina di santa rosa immersa nel caldo bagliore di migliaia di luci è pronta i facchini prendono posizione i loro volti sono un misto di concentrazione ed eccitazione con un boato collettivo sollevano la macchina il cui peso si posa sulle loro spalle imbottite il viaggio è uno spettacolo di grazia e forza brutta i facchini con passi misurati e precisi si fanno strada tra le strette vie di viterbo la folla esplode un coro di applausi e incitamenti segue ogni movimento della macchina l'aria vibra di un'energia palpabile un senso condiviso di stupore ed eccitazione sezione 6 lo spirito di viterbo unità e celebrazione la festa di santa rosa è molto più di una semplice processione è una celebrazione del cuore e dell'anima di viterbo le strade si animano di musica balli e profumi di cibo tradizionale famiglie e amici si riuniscono condividendo storie e risate è un momento per la comunità di stare insieme per onorare il proprio passato e abbracciare il proprio futuro la festa è una testimonianza del potere della tradizione un monito dell'importanza di mantenere viva l'eredità culturale è una celebrazione di fede coraggio e della forza duratura dello spirito umano al centro di tutto c'è la storia di santa rosa una giovane donna che ha osato fare la differenza sezione 7 testimoniare la meraviglia consigli per i viaggiatori vivere la festa di santa rosa è un'esperienza indimenticabile pianifica il tuo viaggio a viterbo intorno al 3 settembre e preparati a rimanere affascinato prenota l'alloggio in anticipo perché la città si riempie velocemente arriva presto il giorno del per assicurarti un buon punto di osservazione lasciati trasportare dall'energia della festa esplora le suggestive vie di viterbo assapora la cucina locale e immergiti nell'atmosfera vibrante parla con la gente del posto ascolta le loro storie e abbraccia lo spirito della festa sezione 8 una tradizione senza tempo l'eredità duratura di santa rosa quando la macchina di santa rosa completa il suo viaggio un senso di realtà